Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Si avvicinano le elezioni, qual è il suo sindaco ideale per Avellino? Deve essere un sindaco che capisce, prima i giovani, prima la cultura di Avellino, poi un po' di ordine nel zona di Avellino. Un po' più attenzione, un po' più cortenza, un po' più carabinieri, perché qua ci sono dei furti, delle cose incredibili. Deve essere un sindaco con le palle, che capisce tutta la situazione di Avellino. Quindi uno che ama Avellino? Che ama l'Avellino e che ama la città, e che ama il popolo di Avellino. Uno di noi. Uno più giovane, uno in gamba, uno che secondo me non è mai stato in politica, in questi ceppi vecchi, secondo me. Perché non si canta di regra? Perché io è quello che conosco, è una persona eccellente. È una persona eccellente per la città, anzi lo ritengo un angelo custode. Grazie, grazie mille. Questo è che dico, è che qua l'idea. Quindi insomma ci vuole uno che conoscia. Meno auguro, perché le intelligenze non mancano alla nostra città, non mancano. E che devono guagliare le cose col buon senso. Questo è inutile, è giusto. Uno di noi. Uno della gente, che sia per la gente, non per qualcuno. Ci vuole uno che si interessa veramente della città, perché è un po' abbandonata, da parecchio tempo. Quindi ci vorrebbe una persona che esca, capisca il luogo, vede quello che bisogna fare e reagisca in questa maniera da sollevare le sorti di questa città. Quindi uno che conosca Avellino. Sì, soprattutto che lo conosca, ma che abbia contezza di quello che c'è. Guarda, osserva e reagisce. Una persona normale, una Avellinese, prima di tutto una Avellinese, che deve conoscere bene i problemi di questa città, che ce ne sono tanti di problemi. Perché naturalmente fanno le opere pubbliche e non c'è manutenzione. Piazza Libertà abbandonata, infatti ci sono gli operai che hanno tolto adesso centinaia di spazzatura. Il sabato e la domenica qua a Avellino non si capisce niente. Un giovane che conosce con idee nomative, secondo me. Un giovane? Sì, sì. Penso io. Un buon Avellinese, ecco tutto.